E per la nostra rubrica dedicata al mondo della cultura oggi parliamo di uno spettacolo itinerante che ha come protagonista Amleto, Igor Chierici, un nuovo progetto che lega Piazza dei Ferrari al Museo Diocesano con un'iniziativa davvero accattivante che andrà in scena dal 23 al 27 di novembre. E allora raccontiamo che cosa aspetta il pubblico. L'appuntamento è alle 20.30 in Piazza dei Ferrari, una location un po' inusuale per uno spettacolo che a tutti gli effetti è uno spettacolo teatrale. Assolutamente, intanto grazie e precisiamo subito questa cosa. Gli appuntamenti delle date sono questi come hai detto tu, 23-27. C'è il gioco nel gioco, ci siamo divertiti a fare un doppio ruolo un po' come Gasman e Randone all'epoca. Stiamo alzando sempre un po' più il tiro come compagnia Chierici Ciccolelle, quindi il ruolo di Amleto verrà interpretato sia da me il 23 e il 25 che dal mio collega Luca Ciccolella il 24 e il 27. Come dicevi è itinerante, nel senso che io ho curato, curerò la regia e la drammaturgia di questo lavoro, l'ho riscritto e parto dalla morte di Amleto. Infatti il titolo è Amleto re di Danimarca, quindi quei pochi cinque minuti dopo essere stato principe passa a essere re, diciamo a livello proprio dinastico. L'appuntamento è in piazza De Ferrari perché accompagneremo il pubblico, o meglio questo corteo storico è un Amleto vichingo, siamo nel Medioevo all'interno del cappello di Genova nel Medioevo, però ho scelto di affrontare la tematica di un Medioevo vichingo. Quindi questo corteo storico accompagnerà in questo corteo funebre tutto il pubblico da piazza De Ferrari a piazza Matteotti a San Lorenzo fino in viato Masoreggio all'interno del Museo di Uccesano dove però si svolgerà la tragedia, il racconto di Amleto attraverso tutti i suoi personaggi post-morte. Sì perché questo è l'anno che Genova ha deciso di dedicare proprio al Medioevo, Ianoa si è tenuta a Genova con un successo strepitoso, tantissime le presenze che si sono registrate e quindi uno spettacolo che rientra un po' nello stile proprio di quello che è stato un calendario fitissimo di appuntamenti. Non è la prima volta che affronti il ruolo di Amleto? No, posso dire di aver smarcato un po' di quei bei ruoli importanti per un attore, Amleto, Iago, Riccardo Terzo. Ecco, diciamo che Amleto l'ho toccato in un allestimento all'epoca, nel 2015, uno dei miei spettacoli più belli in assoluto, dove io ho imparato tanto e dato tanto per la causa, quindi per l'operazione di Shakespeare. E' stato il mio primo anno in cui ho lavorato con il teatro necessario, quindi in carcere, e fu la produzione appunto Amleto Principe di Danimarca. E il set scelto per questa rappresentazione è un set unico, il Museo Diocesano di Genova, che tra l'altro proprio quest'anno ha salutato il monumento Fieschi, restituito alla città, quindi è una doppia occasione per abbinare al teatro e a uno spettacolo meraviglioso alla sera, anche una visita poi al museo, quindi anche un invito a conoscere di più i luoghi della cultura della città. Ecco, per quanto riguarda anche il trailer che stiamo vedendo con le immagini, un bel lavoro anche questo, avete sperimentato un po' un mondo che un po' spaventa anche il mondo della cultura e dell'arte, quello dell'intelligenza artificiale. E' vero, spaventa però è sicuramente una nuova frontiera, è una nuova formula che non si può non considerare. Io faccio sempre l'esempio, quando c'è stato l'avvento dei musicisti tastieristi, quindi con la possibilità, grazie alle tastiere, di riprodurre un'intera orchestra, ecco allora che forse lo spavento è stato per i puristi pianisti, quindi i nuovi tastieristi, i nuovi pianisti hanno dovuto imparare con solo nuove per poter adattarsi a un mondo che stava cambiando. Idem noi, questo è un trailer realizzato totalmente con intelligenza artificiale, grazie al sostegno e al contributo con Matteo Zingirian, che ha collaborato al fine di ricreare questo mondo gotico, in parte, ma soprattutto nordico vichingo, di quella che è poi l'andamento e l'adattamento di questo amleto. Questo è il trailer, ma sarà ancora più bello dal vivo quello per forza, perché lo scenario sarà quello di Genova. Genova è una grandissima storia, tra l'altro medievale, che abbiamo riscoperto quest'anno, con un'ambientazione che passa anche proprio per Piazza San Lorenzo, per quindi la Cattedrale Genovese e fino ad arrivare poi al Museo Diocesano. Ma Igor Cherici, con questo taglio tra l'altro ad hoc per lo spettacolo, sta cambiando un po' di look perché si sta cimentando i ruoli differenti. Uno di quelli che è stato amatissimo dal grande pubblico è nella serie Hanno Cisolo Moragno. Dove il taglio era totalmente diverso. Tendo preciso l'ultima cosa, che lo spettacolo di Amneto è uno spettacolo complesso a livello organico. Insieme a me, insieme a Luca Ciccolella ci sono altri attori, da Marco Gualco, Marion Costantenne nel ruolo di Ophelia, Vincenzo Ruopolo, e i musicisti di Selva Harmonica, un coro che dà la potenza a questa produzione. Ecco sì, il taglio è dovuto, ci devo anche convivere per un po' finché non ricresceranno i capelli, cosa invece che sul set degli 883, ricoprendo il ruolo di DJ Fargetta, era totalmente diverso. Però lì c'era l'artificio di un grande set, bellissimo, e soprattutto di un grande comparto trucco parrucco, che ad hoc mi hanno ridato i capelli lunghi, tipici con una parrucca, tipici di DJ Fargetta. La serie è piaciuta talmente tanto anche agli originali, come si vuol dire, che avete incontrato in una speciale puntata radiofonica, da voler rifare questa esperienza. Assolutamente, allora io sono in trepida attesa, è stata annunciata che la seconda stagione è uscita, Mario Fargetta, quando ci siamo incontrati, prima di tutto c'è stato un grande abbraccio, due persone meravigliose, Albertino e Fargetta, ecco, e lui mi confessa che ha mixato ben tre famosi pezzi, no, di Max Pezzagli e di Mauro Repetto. Quindi io ne ho parlato di uno nella prima serie, e adesso aspetto la convocazione per la seconda. Immagino che non si veda allora, anche perché il set è stato davvero affascinante, interessante, la serie è ben prodotta ed è piaciuta tantissimo, anche perché è l'occasione anche per i giovanissimi di scoprire una storia, di riscoprirla, una storia con cui di fatto anche i giovani della Gen Z sono comunque cresciuti, perché anche se l'ascoltavano i propri genitori, loro l'infanzia l'hanno passata sulle note degli 883. Ma prossimi ruoli, prossimi appuntamenti in cui ti vedremo protagonista, qualche anticipazione? Sì, allora, adesso ci impegniamo ovviamente su Amleto, ritorna la leggenda del pianista sull'oceano a aprire un importantissimo teatro che per tanto tempo a Genova ha visto i battenti chiusi, che è il Teatro Verdi di Sestri, e ritorna con questo bello spettacolo, con questo titolone, il 13 di dicembre. Magari ci sarà occasione di parlarne. E poi si pensa all'estate spettacolo, come al solito, all'Isola delle Chiatte. Ci sono vari titoli, il grande desiderio sarebbe quello di toccare un altro Shakespeare, in questa versione ovviamente sul mare, quindi una tempesta di Shakespeare. Vediamo, c'è un po' di tempo, almeno me lo dico. Sì, Stories Festival, sicuramente al Porto Antico, sarà un altro appuntamento da non mancare la prossima estate. Invece per Amleto, Red di Danimarca, spettacoli itineranti, i biglietti online. Online o presso librerie Coppo o direttamente al museo. E allora l'appuntamento dal 23 al 27 di novembre, non a teatro, ma in piazza e al Museo Diocesano. Grazie a Igor Chierici. Grazie a voi.